Tutto esiste qua! Non si suona! Non c'è qua! Non c'è questo tasso! Cosa l'abbiamo diventato a fare? Vogliamo fare! Finalmente siamo riusciti ad uscire dalle nostre case per proporvi un po' di sound totalmente esterno, così caro a noi, i Dio Fausti! Che è poi quello che ci ha caratterizzato lungo il corso degli anni e lungo il corso della nostra ammirabile carriera! E' lungo il corso dei fiumi! Lungo il corso Sempione! E' lungo! E' lungo, molto lungo! E' lunguissimo! Beh, questo è una nostra nuova traccia! Siamo a... Ma la regina? Sì, sai che l'hanno già fatto! No, si chiama Fausti! 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 no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.